Un'incontro, Trato, Modellissi Cavaioli, inizia la partita, palla a Cavaioli da Natalano, ora a dire in giro il battuto, palla a fermare in mano, non può tornare la prova più alla città, in alto, deve essere la città di poco a osso. Dove lo sceglie, 18 o meno, ancora, tornare in giro, alto, palla a fermare, cambio per il bravo, entra D'Antonio al posto di Sennepra. Il giro il battito, il schatto, il Tempo di Ora polo per il camagliore, secondo palo per il camagliore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.